Qui in Corea vivono nel futuro Ecco, quattro cose che mi hanno scioccata quando sono arrivata qui Ma che fare se ti perdi in Corea? Beh, ci sono questi robottini che ti indicano dove andare Io li ho incontrati sia in grandi centri commerciali che in aeroporto Puoi anche farti delle foto carine con loro I robot sono anche molto comuni nei bar e ristoranti Questo mi stava preparando un tè maccia Qui ci sono caricatori per il cellulare ovunque Potete trovarli nei centri commerciali, nelle stazioni o addirittura sulle panchine delle fermate Che spesso sono riscaldate, come vi dicevo nella parte 1 I loro trattamenti beauty sono letteralmente ad un altro livello Con tecnologie avanzate incredibili e prezzi convenienti Ti saresti mai immaginato che esistessero queste cose? Seguimi per altre curiosità in giro per il mondo